Allora, stanno accendendo le luci adesso, vabbè, volevo farle notare, allora Carmen è una ragazza non tanto alta, non diciamo l'altezza, però, comunque sia, e niente, allora, abbiamo fatto qua praticamente allo stadio, già se uno si alza davanti, se si alza, se non si alza, non si vede quasi niente, vi dico tutto perché a centro campo non vediamo, però la porta di qua abbiamo il rischio di non vedere neanche il cuore, se siamo lì là, perché se guardate l'altezza delle teste, quando sono seduti, ecco, guardate quando sono in piedi, ecco, guarda, mi toglie la linea dell'area, e non è neanche tante volte quella ragazzina che si è alzata, mi toglie la linea della palla, e io di conseguenza mi devo alzare, ma... Vabbè, guarda, guarda, se si alza in piedi la gente non si vede niente, e guardate quanto spazio c'è tra un seggiorino e l'altro, Cioè, io non ci sto con i piedi, guarda, mi devo alzare qua, se faccio solo così, toccherai già quello davanti, e niente, mi sembra già un po' fatto un po' con i piedi sto stadio, guarda, è una figata, Con i piedi, perché se mi dovesse alzare i miei piedi non ti chiedete di vantare a truccare le cose. Ti parla uno che ha 48 e mezzo di piede, eh, guardate qua. Però non c'è neanche spazio da qua a là, va bene. E questo è uno stadio nuovo. Sì. E se si alzano già qua non vediamo un cazzo? Veramente, io la porta già non la vedo. No, beh, se siamo seduti, no, non vediamo niente, dobbiamo alzare. Mi devo alzare per vedere il fuori di troppo. E' un grande partito del Milan. Vai, abbiati! Un applauso agli addi, un applauso al Milan. L'ordinità della collega. Hai visto, hai visto, sono qua, mirano queste lato che sa Allora, devono ancora fare il lato. Noi, ci direttiamo però salgiano qua. e fare freddo perché vedo anche i giocatori che entrano con la cianca e si, quindi fanno freddo nella madonna e l'inizio di riscaldamento murabbiati guarda, altri due del Milan no, no, non ho lo spazio proprio umano si vede che i coppi sono un po' bassi è come se mi sono un po' bassi rispetto a lui spiritoso, spiritoso se è lui che c'è una sleppa di piede ma guarda il piede, ma sei già una ragazzina guarda, ho fatto solo si vedo niente, si alza e non vedo niente questo è un altro come me, altro come me se dovessi alzare davanti a me non vedo questo niente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti